buongiorno e buon inizio di settimana lunedì 23 gennaio con viabilità penalizzata dal maltempo ci sono nevicate a bassa quota su molte strade autostrade ma anche dalla pioggia e andiamo a monitorare le immagini che ci giungono in diretta dalla dinamazione di roma sud e queste sono le code tra torre 9 il grande raccordo anulare in primo piano andiamo subito in area ligure per segnalarvi code per cantieri di lavoro tra ovada e masone in direzione genova voltri siamo sulla 26 la genna corabella l'unatoce code che ritroviamo anche sulla 9 per tre chilometri tra uboldo il bivio della 8 milano varese in direzione della inate andiamo in area toscana per segnalarvi i due incidenti uno indicato tra il bivio della 12 genna rosignano e lavoria in direzione firenze siamo sulla strada grande comunicazione firenze pisa livorno e nelle tratto dell'autosole tra orvieto e fabbro in direzione di firenze entrambi gli incidenti hanno sviluppato code al momento quantificati in un chilometro altro incidente sempre nel tratto dell'autosole ma nel tratto laziale tra colle ferro e anagni verso napoli mi fermo qui grazie per l'attenzione buona giornata e arrivederci arrivederci